Bentornati sul mio canale, io sono Mr. Camarium, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Oggi vi presento un piccolo dispositivo che ho realizzato per controllare il volume del pc direttamente dalla scrivania. Adesso passiamo prima a farvi vedere come funziona. Ok, andiamo, ecco qui. Come potete vedere dallo schermo qui in alto, io nel girare una manopola va a regolare il volume, abbassarlo ad alzarlo in modo anche del tutto preciso. Se vedete, ovviamente vi anticipo che questo progetto è stato realizzato interamente con pezzi reciclati da un piccolo mouse. Quindi non ho comprato nulla a parte la scheda del DigiSpark. Andiamo ad analizzare lo schema. Lo schema è molto semplice. Se vedete qui a sinistra potete vedere la scheda del DigiSpark 1985 dove ho utilizzato la porta 0 e la porta 2 collegata direttamente all'encoder, l'encoder che ho prelevato dal mouse. Potete vedere anche il video su come ho prelevato questo componente dal mouse. Dallo stesso mouse ho prelevato un pulsante che ho collegato alla PC5 che si verrà praticamente come mute collegato direttamente ai 5 volts. Tramite sotto ho riabilitato la resistenza interna per proteggere questa porta. In più, sulla porta numero 1 ho attaccato un ulteriore LED perché la DigiSpark sulla porta 1 già ha un LED. Io ne ho abilitato un altro. Questo LED di colore rosso con la resistenza 180 ohm ci servirà per avere una segnazione di stato nei momenti in cui andrò a premere il pulsante mute. Così io saprò sempre che il computer sta in modalità mute, almeno così non impazzisco vedendo che l'audio non c'è. Questo è il circuito stampato che ho realizzato tramite il mio software Sprint Live. Ovviamente in descrizione vi metterò anche le librerie se vi serve progettarlo e personalizzarlo secondo le vostre necessità. Però se vedete non è molto complesso come il circuito stampato è molto semplice. Passiamo al software. Ovviamente come molti san latini utilizza Arduino per essere programmato. Questo è lo script che praticamente ho trovato in rete. Non è farino di mio sacco. Io ho solo personalizzato praticamente l'encoder per farlo girarne verso dove mi serviva a me. In pratica se vedete che l'encoder quando andate a ruotarlo ruotano il verso sbagliato basta che cambiate questi due valori. In pratica dovete invertire la A e la B con 0 e 2 e via dicendo. In questo modo vi troverete nel verso giusto. Se vedete qua ho definito il LED 1 e il pussante perché ancora in fase di sviluppo la funzione del pussante mute. Ovviamente l'aggiornamento lo troverete comunque sul mio sito dove sarà disponibile anche il link in descrizione. Quindi questo progetto penso che sarà utile a molti di voi. Io purtroppo per realizzare ci ho impiegato molto tempo perché aspettavo la componentistica che doveva arrivare dall'estero e a causa del problema mondiale è stato difficoltoso averlo nei tempi previsti. Io spero che questo progetto possa essere utile anche a voi come sarà utile anche a me proprio per gestire la mia stazione. Vi auguro una buona giornata e vi ricordo ancora una volta di lasciare un like e di registrare il mio canale. Grazie e arrivederci.